Cerchiamo di rivolgere il nastro, cerchiamo di comprendere al meglio tutto quello che è accaduto ieri sera tra Juventus e Inter, cerchiamo di dare una spiegazione a quella maxi rissa avvenuta nel finale, cerchiamo di capire se l'espulsione di Lukaku è giusta oppure no, cerchiamo di capire se la reazione di Andanovic è giusta oppure no, cerchiamo di capire se l'espulsione di Quadrado è giusta oppure no, cerchiamo di fare un riassunto generale a partire dall'ingresso in campo di Romelu Lukaku, che non parte titolare, la coppa di attacco dell'Inter è composta da Dzeko e Lautaro Martinez, Lukaku viene gettato nella mischia perché Inzaghi vuole cercare di migliorare quella che è stata l'apporto in zona gol delle proprie punte. Lukaku dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo, probabilmente per via di un precedente battibecco con un altro giocatore della Juventus o perché semplicemente in questo momento non gli stanno andando bene tante cose a livello di carriera, anche Marotta che va a confermare che bene o male l'anno prossimo Lukaku difficilmente farà parte della rosa dell'Inter o il gol sbagliato di recente contro la Fiorentina, insomma una miriade di cose, fa un intervento veramente brutto su Gatti, intervento ai limiti, ai limiti secondo me del cartellino tra giallo e rosso, è il classico cartellino arancio, è quella situazione in cui se ti becchi il cartellino rosso non c'è niente da dire, c'è da stare zitto e basta, se ti becchi il cartellino giallo invece c'è soltanto da ringraziare, questo è bene o male l'intervento di Lukaku su Gatti, un intervento pericoloso, un intervento che non si dovrebbe vedere in un campo da calcio con un giocatore difensore centrale della Juventus che ormai stava già andando via, Lukaku ha proprio fatto un intervento di quel tipo non per prendere il pallone, non per prendere il pallone, quindi questa sicuramente è un attimo la scintilla che va ad accendere l'incendio che poi vedremo nel finale. Minuto 92 e rotti, calcio di rigore per l'Inter, tocco di mano di Bremer e la curva della Juventus, non so come addolcire la pillola, non perché voglia addolcirla ma perché mi piacerebbe trovare parole diverse da coglioni e non me ne vengono, dei coglioni che nulla hanno a che vedere con il calcio cantano, ululano, ululano, epiteti poco gradevoli, diciamo così, li avete visti tutti, il video sta circolando, queste persone non devono più mettere un piede su uno stadio a calcio, non devono più entrare in uno stadio perché questa non ha niente a che vedere con il calcio, con lo sport e con il rispetto in generale, queste persone vanno identificate da spate, allontanate definitivamente, definitivamente dai campi da calcio perché devono capire la lezione, devono imparare, sia nel 2023, sembra abbastanza logico iniziare a capire che certe cose non hanno ragione di essere pronunciate, quindi queste persone vanno presa allontanate, come vanno presa allontanate quelle che dicono Zingaro e robe del genere, ai vari Kostic, Stankovic, è successo tante volte a Moise Ken, è successo tantissime volte a Moise Ken, pure tante volte mi pare che ci sia paura di parlare di questa tematica, mi pare che ci sia anche un po' i paraocchi, abbiamo degli strumenti di comunicazione importanti e poi ci arriviamo perché questo è un appello che va fatto assolutamente, quindi queste persone le hanno prese e allontanate dagli stadi, qua non è che c'è da girare intorno, ieri sera non ne ho parlato nel video, non abbiamo ancora visto cosa era accaduto da Mediaset, Canale 5, non si era capito che era andata in questo modo, poi Lukaku segna il gol e fa un'esultanza polemica, perché non potete venirmi a dire che è la stessa esultanza che ha fatto col Belgio, non è per quello che Lukaku è stato espulso, Lukaku è stato espulso perché è già munito, Lukaku invece che esultare ha rivolto ripetutamente dei muto, muto con il dito davanti al naso, alla curva della Juventus, Rea in precedenza con 4, 5, 6, 10, 100, 1000 coglioni, non so quanti erano, non so chi erano, non ne ho idea, non c'è un'altra spiegazione, non c'è un'altra parola, coglioni, che gli avevano rotto il cazzo in precedenza con delle frasi che andrebbero evitate, sempre e comunque, è che non sto ovviamente qui a ripetere, mi fa anche strano vedere che viene ripreso il virgolettato su tante testate di informazioni, io non andrei nemmeno a riprenderli quei virgolettati, perché il razzismo è una cosa seria e andrebbe combattuto davvero con le armi giuste. Lukaku sbaglia nella reazione? Certo che sbaglia, certo che sbaglia, certo, è già munito, fa una cosa che non deve fare, regolamento alla mano, viene espulso. È inutile girarci intorno e dire no, però ragazzi il razzismo è una cosa diversa, va lasciata fuori, quella è a priori, non c'è neanche da discuterne una cosa sbagliata. Fine, stop, il calciatore però non può poi rispondere, perché si mette in difficoltà da solo, mette in difficoltà la propria squadra, hai fatto gol, è il 93esimo, l'hai pareggiata nonostante questa cosa, dovresti essere felicissimo, dovresti essere l'uomo più contento del mondo. Lukaku si becca da regolamento giustamente il secondo cartellino giallo e qui abbiamo un'altra piccola scintilla, no? Con Lukaku e Quadrado che iniziano a parlarsi, abbiamo qualche immagine della situazione. Io dico banalmente, ma Quadrado, ma che cosa vai a dire a Lukaku in quella situazione lì? In cui ci sono stati dei cori razzisti nei suoi confronti, in cui è stato espulso, è stato espulso, lascialo stare, che cosa gli vai a dire? Lukaku con indifferenza, forse anche senso di superiorità, lo snobba e poi c'è questo battibecco con Lukaku prima che dà la spinta. Quadrado allora gli dà lo stesso tipo di spinta per fare in modo di attirare la sua attenzione e lì Lukaku si arrabbia. Però è stata la stessa identica cosa che aveva fatto Lukaku pochi istanti prima, quindi non può arrabbiarsi per quel gesto che aveva appena compiuto pure lui. E qui nasce il delirio, inizia il delirio degli ultimi minuti, inizia veramente il delirio degli ultimi minuti. E ribadisco, Quadrado, che cosa vai a fare? Che cosa vai a dire? Perché devi andare lì? Perché devi andare lì? Qual è la motivazione? Provocare? E allora è giusto che ti becchi il giallo anche te, è giusto che non averti... Alla prossima partita che eri già diffidato, è giustissimo, perché cosa vai a fare? Cioè qual è la ragione per andare lì a fare una roba del genere? Finisce la partita, Quadrado va a parlare con Andanovic, all'inizio sembra anche una chiacchierata tranquilla tra i due che vogliono semplicemente cercare di spiegarsi, vogliono cercare di chiarire quello che è accaduto, ma anche lì io voglio dire ma per quale motivo? Cioè qual è la ragione che ti spinge ad andare lì a voler parlare col capitano dell'Inter per... Poi non si sa, non si capisce che cosa accade, perché da una chiacchierata tranquilla, come abbiamo visto, si scatena il puttiferio, Andanovic si arrabbia e noi abbiamo avuto come prima immagine quella di Andanovic rabbioso dopo un'altra spinta di Quadrado, come quella che aveva fatto infuriare Lukaku, come quella che aveva ricevuto da Lukaku. E allora ancora una volta mi chiedo, ma Quadrado ma perché? Ma che cosa devi andare a fare? Che cosa devi dimostrare? Ma tieni a posto quelle mani, ma cosa fai? Ma per quale motivo? Cioè spiegamelo veramente, per quale diavolo di motivo devi andare a spintonarlo perché non ti cagano più, perché vogliono andare via? C'ha ragione se vogliono andare via, è finita la partita, finita la partita, andate a parlare in un'altra parte, con Lukaku, vai a parlarne fuori con Lukaku che ti aveva detto ti aspetto fuori, vai a parlarne fuori. Cosa rimani in campo a fare? Cosa rimani in campo a fare? E cosa vai a spintonare le persone? Poi Andanovic si arrabbia perché viene spintonato, probabilmente esagera nella reazione perché è una reazione esagerata per uno spentone come quello lì. E però poi c'ha anche ragione ad incazzarsi perché che cosa lo vai a spintonare a partita finita? Per quale diavolo di motivo? Non ha veramente senso, non ha minimamente senso. E poi c'è Quadrado che prova addirittura a colpire Andanovic con un pugno. Queste cose ragazzi non si possono vedere. Queste cose non si possono vedere. Queste cose non hanno ragione di esistere. Un giocatore della maturità calcistica di Quadrado perché non è un ragazzino, è un giocatore esperto che ne ha già viste di cotte e di crude. Di cotte e di crude. E non può cadere in queste banalità perché ci ritroviamo senza un calciatore per una banalità. Perché va a provocare, va a cercare di fare, dimostrare, chiacchierare. Ma per quale motivo? Noi perdiamo un giocatore per una roba del genere, per la semifinale di ritorno. E beh questa roba fa incazzare. E mi fa ancora più incazzare, mi fa ancora più incazzare, sentire poi l'allenatore dell'Inter nel post partita che fa questo tipo di analisi. che fa questo tipo di analisi. Lukaku non ha sbagliato, non hanno capito l'esultanza a quegli altri, non hanno capito l'esultanza agli altri. È una puttanata per due motivi questa affermazione. Perdonatemi anche il termine, ma bisogna andarci giù duro in certe cose. Per due motivi. Perché sembra quasi un complotto per togliere Lukaku al ritorno. E questo non è un complotto per togliere Lukaku al ritorno. È che il tuo giocatore ha sbagliato esattamente come ha sbagliato Quadrado. E andrebbero tirati per le orecchie. tirati per le orecchie. Perché i club ci rimettono per questa roba qui. Perché i calciatori non riescono a tenere la testa a calma. Sono delle teste calde. Vanno presi per un orecchio e richiamati pubblicamente. Non detto, eh però, poi noi siamo quelli che... Seconda battuta. In seconda battuta hai la possibilità di parlare di fronte alle telecamere di quello che è accaduto. Se Lukaku regisce male, perché reagisce male, non puoi dire che è stato... Non è stata compresa l'esultanza. È una reazione brutta quella di Lukaku. Come è stato brutto quello che è accaduto in precedenza. È la possibilità di spiegare perché Lukaku fa quella roba lì. Parlane alle telecamere. Parla del razzismo. Parlate del razzismo. Avete la possibilità, voi allenatori, di poter parlare di queste cose. Avete paura a parlarne. Si va davanti alle telecamere e si dice Lukaku ha reagito così perché quattro coglioni in curva gli dicevano delle brutte robe e gli facevano gli ululati. Questo va detto. Non avete capito l'esultanza. Non spero che la tolgano come l'hanno tolta a Lukman. Che non gliel'hanno tolta? Non queste robe qui. Parlate delle cose importanti. Richiamate i vostri calciatori. Perché se i calciatori fanno queste cose in campo e fanno delle figure di merda, perché queste sono figure di merda che guardano poi anche all'estero e non ci comprano i diritti per la Serie A e la Serie A diventa sempre più povera, sempre meno interessante. Diventiamo sempre più poveri perché anche per queste cose qui. E allora, dato che voi avete la possibilità e la responsabilità di calmare i vostri giocatori, parlate di queste cose invece che garparvi sempre alle solite tre cose in croce da anni 90. Perché mi fa incazzare questa roba che ci sia il razzismo negli stadi e che sia sempre la solita storia. sempre colpa degli altri, sempre colpa degli arbitri. Mai nostra responsabilità. Imparatevi ad assumere le responsabilità. Imparate a tenere fuori i razzisti dal calcio. Due cose per concludere il video. La prima ho trovato quest'altra clip in cui anche Andanovic sferra un pugno a quadrado. E quindi ragazzi queste cose sono veramente oscene, sono curioso di vedere cosa deciderà il giudice sportivo. Questi due calciatori veramente andrebbero fermati perché hanno dato vita a uno spettacolo indecoroso. In seconda battuta ricordo quando Perisic prese per il collo quadrado e i tanti che si esaltarono di fronte a quella scena. Allora se condanniamo la violenza e il razzismo li condanniamo sempre, non solo quando ci fa comodo o a targa alterna.